in cima si spostiamoci stai andiamo a fare andiamo a prenderlo andiamo a prenderlo qua davanti non è da solo eh uno è uno non quello che c'è uno è uno è qua davanti sopra di noi pino e non possiamo prenderlo e stai sopra di noi destra è qua sopra è qua sopra di me non so ma non c'è un cazzo per tirarlo su eccolo il team è eliminato morto c'è è un altro stella in fondo dove? è lontanissimo è già rotto eh è già rotto io l'ho già rotto è sceso con l'elicottero sopra la casa eh vedo un movimento era l'elicottero ho preso quello dentro l'elicottero mi sta fightando il suo socio eh quello con l'elicottero è il socio quello lì si l'ho preso è salito preso a terra è sceso di nuovo bellissimo te l'ho salvato uno però eh quanto è che ti ha dato? come si può sopravvivere un muscante dell'elicottero l'elicottero l'elicottero si vuoi